Ciao a tutti, sono di ritorno da una bellissima vacanza a Praga, città della musica, della letteratura, dei libri e delle note, città stupenda. Volevo dirvi che siamo pronti per partire con le nuove edizioni del corso per paventieri che a 2015 sono due, la prima è in partenza il 24 di gennaio a Milano, nella sede della Vocal Care di Danila Satragno, quindi siamo alla terza edizione milanese, partiremo il 24 di gennaio, affrettatevi per i posti perché si stanno esaurendo, quindi scrivete il canzone ufficio, chiocciolagmail.com per prenotarvi, per aver le info, eccetera. Poi, grandissima novità, anche il centro-sud, diciamo così, potrà avere una sede più prossima. e partiremo il 31 di gennaio, affano, 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 nel bellissimo studio Night Recording Studio del grande Cieco dei Bellini, anche lì affrettatevi per l'iscrizione, il canzonificio chiocciola.gmail.com, un saluto da Nuki, vi aspetto, un bacio.